Sono stati traditi da questa risata, la risata della Befana Parlante, e sono così finiti in manette. È successo nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Saiaco Padarezzo, piazza che ospita i mercatini natalizi. Due malviventi, entrambi tunisini, attorno all'1.30 di notte, sono entrati in azione. Hanno squarciato il telo di uno stand di dolciumi. Uno dei due, poi entrato all'interno, ma una volta sotto il tendone, ha urtato le Befane Parlanti, che con le loro risate hanno messo in azione gli addetti della vigilanza e le forze dell'ordine. I due sono stati così bloccati da una guardia giurata ed arrestati dalla polizia. Questa mattina il processo perdirettissima. I due tunisini hanno patteggiato una pena di due mesi e 70 euro di multa e sono stati rimessi in libertà. Si tratta del secondo furto al mercatino natalizio di piazza Sai Jacopo nell'arco di una settimana. Finché uno non prova una cosa non lo sa, quindi io per fortuna non ho provato questa brutta esperienza. Però è chiaro che comunque ti senti impotente perché sai che comunque lo stand è qui tutte le sere. È chiuso, sì, però se uno vuole viene e fa quello che vuole. Sì, vengono fatti più controlli anche delle forze d'ordine. Ci si sente un po' insicuri? Abbastanza. Con un'ottima sicurezza, sono stati sventati tutti i tentativi di furto. Non furti poi, tentativi. Quindi io dormo tranquillo.